Adesso ci sono le automobili che non c'erano, ma per il resto è rimasto quasi tutto come allora. È incredibile la bellezza di questa caspa del sud, come tante altre su tutte le coste del Mediterraneo. Ma il mio viaggio in tutti i sud del mondo è cominciato proprio da qui. A parte qualche tremendo portone di alluminio anodizzato, non sembra che siano passati più di trent'anni. Eh sì, più di trent'anni ormai da quando ci ho girato il film. Io sono fatto in un film, ehi Basilischi, però bisogna entrare a questa casa. Eh lo so, io sono trent'anni, io lo registro. I nuovi brasiliaschi? I brasiliaschi? I nuovi brasiliaschi. Ah, i basilischi. Il paese dei basilischi si affaccia come un balcone sul tavoliere delle Puglie, lontano dal mare. Allora Minervino Murge sembrava abitato quasi solo da uomini. In piazza, nei circoli culturali, si vedevano solo loro. Le donne qualche volta facevano notizia, ma bisognava aspettare uno scandalo, o che qualcuna di loro si suicidasse. Donnero! Provano della Madonna! Donnero! 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 In questi anni la popolazione si è dimezzata. Se ne sono andati gli uomini giovani, tanti, a cercare lavoro. Dei 10.000 abitanti di oggi, la maggior parte sono donne e anziani. Le donne del sud sono state sempre straordinarie perché hanno fatto da supporto all'uomo sulle facce rifatti di queste donne. C'è una grande pazienza, una grande profondità. Signora, secondo lei è cambiato molto il paese? Poco. Poco? Poco. Poco, c'è ancora quella che viene. E secondo lei è cambiato, signore? Tanto. Sì e no. Tutto è il contrario di tutto. Questa è sempre stata la vera condanna del sud. Cos'è questo? Panico da telecamera o l'incapacità antica di queste donne a rappresentare la propria storia, come se non le riguardassero? Questo conflitto le ha sempre tormentate. Al sud sono soprattutto le donne che spingono per il cambiamento. Lo vogliono e insieme lo temono. Perché spesso per loro ha voluto dire solitudine ed abbandono. Questo è il salamine piccante, questo risuscita ai morti. È buono il salamine piccante. Peccato che non se ne trova più. Noi pensavo, perché non ci mettiamo insieme una decenda proprietaria, invece di coltivare tutto a grano che non ci rende niente. Potremmo tenere qualche animale, fare un salamine, magari la mozzarella, insomma una cooperativa fra noi, una cosa. Dopo tanti anni effettivamente forse questo consiglio è servito. Non a una ragazza ma a degli uomini che hanno fatto effettivamente la cooperativa col salamine piccante. Nel 1978 un gruppo di giovani disoccupati di Minervino Murge occupa un terreno incolto di proprietà comunale e crea una cooperativa agricola che da allora si sviluppa fino a diventare un'azienda modello in grado di dare lavoro a 20 famiglie. L'idea economicamente vincente si è dimostrata proprio quella della cooperativa artigianale per non disperdere gli antichi sapori. Il capo dei giovani disoccupati di allora è diventato l'attuale sindaco di Minervino Murge, uno dei ragazzi che ha deciso di resistere alla tentazione allora diffusa di andarsene. E già il sogno di un altro mondo della libertà era lì lontano oltre quei monti e tutti volevano andarsene, me ne voglì, me ne voglì alzare la mano a quelle che vogliono rimanere qui. Unanimità! Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città. Giovanni, me ne voglio andare, me ne voglì! Chi è sbagliato? Non dobbiamo scappare, non dobbiamo andare vini. È qua che rimastiamo, è qua che devono cambiare le cose. E se ce ne andiamo tutti, qua chi resta? Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città. Vieni, vieni in città. Antonio Petruzzi, Stefano Santaflores e Antonio Bertmuller sono i protagonisti del film. Questo è lo stesso paese. Lo trovi molto cambiato? Devo dire affatto. Mi auguro di non essere cambiato come il paese. Vabbè, tu hai fatto il patto con il diavolo, lo sai. Ma anche Antonio non è cambiato. Neanche Antonio non è cambiato. Quindi evidentemente questo posto porta buono. E di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame. Dunque, Antonio, che è il mio carissimo cugino, e lui è restato. Tu sei stato felice di rimanere qui? Sono stato più che felice, mi sono realizzato. Quindi non hai per niente sentito quella smania di andarsene? No, 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 assolutamente no. Che impressione ti ha dato il cambiamento di questa gioventù? Non hanno tutti i tabù nei quali noi siamo purtroppo cresciuti. Non c'è più nessuna differenza tra i due sessi. E tu che sei figlio di tanto padre, che mi racconti? Io, sinceramente, a me piace tantissimo stare qui. Io mi trovo meglio qua che nelle città grandi. Vieni, vieni in città. E stai a fare in campagna Se tu vuoi farti una vita Devi venire in città Mio padre vorrebbe che io rimanessi qua. E tuo padre? Io, ma io voglio andare. Milano. Tu? Tirenzo. Tu? Roma. Tu? Roma. Tu? No, io voglio andare in un paese più bello, piccolo e più bello. Io credo che l'elezione che sarà è molto importante per noi ragazzi, ma anche nel futuro. Voglio andare in aeronautica. Ho ancora l'idea chiara, non so prima. Musicista. Calciatore. Io ingegneria informatica. Quello che è capito. Penso farmacista, però. La passione per il disegno. Pediatra. Entrare nella vita militare. Cinema, spettacolo, musica. Per il medico, il ministratore. Manager. Oggi quei basilisti che sono rimasti hanno cominciato a cambiare la mentalità di questi paesi. Sono nate aziende meccaniche di precisione e d'abbigliamento, con miliardi di fatturato. Lavoro c'è, abbiamo tanto lavoro da svolgere, però siamo carenti di operai, di mano d'opera. E secondo me è troppo benessere. Anche se in paese si maligna di numerosi casi di lavoro sottopagato, un po' come in tante altre realtà del sud. Secondo te esiste una malattia del sud? Sì. Qual è? Nessuno può lavorare. Il sociologo Domenico De Masi assicura al contrario che il sud è un forziere di nuove energie e che il telelavoro consentirà presto a queste terre antiche di entrare nel mercato globale della porta principale e che anche qui i giovani di oggi inseguono il futuro con un passo veloce, molto diverso da quello di un tempo. A proposito, cercavo proprio a lei. A me! Avrà notato che parecce che l'ho notato. Eh beh! Beh, signorina, io voglio sperare, beh insomma, che non vorrà deludere il mio sogno. Lei è un serio ragazzo, è vero, e mi piace. Però ci deve pensare. La risposta fra tre giorni. Benissimo. A proposito... Eh, caro Tony, quanto ti stava stretta a te, così bello ed affascinante, la parte di quel giovane indeciso a tutto. Ehi Moretto, vieniamo qui dalla rocina che ti tratto bene. Allora, quando mi hai chiamato a fare questa cosa, ero molto giovane, un ragazzo, insomma... Ne hai fatta di strada da allora. Ora sei un imprenditore di successo. E' proprio al sud, dove non ti sei mai voluto staccare. Ma anche le ragazze del paese dei Basilischi hanno fatto tanta strada. Pure più di te. Secondo te, insomma, i costumi sono cambiati? Sì, sicuramente sono cambiati. È normale andare con i ragazzi? Eh, cosa intende? No, intendo il peggio. Ah, no. Non normale? No. Cioè, tu pensi di arrivare al matrimonio vergine, per esempio? Beh, non lo so, non è detto. Perché c'è da considerare che prima si sposavano 16 anni, magari. Cioè, a 7. Adesso ci si sposa più in là. 26, 27, 30 anni. Quindi non è detto. Non sto escludendo la possibilità di avere dei rapporti prima del matrimonio. Però non dico nemmeno che sia sempre giusto, sempre e comunque giusto. È un valore rimanere vergini fino al matrimonio, però penso che i giovani di adesso, penso, rimangano vergini fino a fa. Rimangono però ancora antichi pregiudizi, testimoniati dai casi di alcune ragazze madri che nel paese non trovano né comprensione né lavoro. Eh sì, quella mia vecchia intuizione era giusta. Il sud continua anche oggi a muoversi sulle gambe delle donne. E non dobbiamo dimenticare che la vera ricchezza dell'Italia è costituita dalla bellezza del suo territorio, dei suoi monumenti, degli antichi paesi, delle mille città d'arte. E che qui siamo in uno dei più bei posti del mondo, che aspetta di essere finalmente scoperto da un turismo di qualità. Ad in vita ad un da venio mataiola Sì, quella mia vecchia intuizione è costituita dalla bellezza del suo territorio, che aspetta di essere i nostri amici. E che sei un'unico di qualità. E che è 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 un'unico di qualità.